E buongiorno a tutti stronzi, bentornati sul canale, questo è un video pre-derby. Mi vedi agitato? Sì, mi sto agitando io, sì. E la cosa che mi agita non è assolutamente dare un derby vinto all'Inter, perché questa è l'ultima delle cose che mi interessa. Perché io sono dell'opinione che se vinci i derby e non vinci i titoli, non conta un cazzo. Mi dispiace, non mi trovate d'accordo ma è la verità. Cioè se vinci un derby e poi arrivi decimo in classifica, a che ti serve? Al massimo è una partita che ti è servita per non arrivare a undicesimo, ma alla fine che ti conta? La cosa che mi preoccupa è la settimana, le due settimane di fuoco che abbiamo davanti e una è quasi passata e una è iniziata anche nel migliore dei modi. Dobbiamo andare a affrontare la Roma, attenzione, abbiamo la Roma domenica prossima e sinceramente riuscissimo a fare tre punti tra Inter e Roma sarebbe tutto oro del mondo. Magari riuscire a farli contro l'Inter, ecco, quello sì. Però di certo dovessimo vincere il derby e poi perdere con la Roma e vederli di nuovo davanti a me non cambierebbe. Cioè nel senso, il mio sogno è, dopo la Roma, essere in testa della classifica dato che abbiamo partite abbordabili. Abbiamo Verona, Udinese e due o tre partitelle prima di Frentina e Napoli e quindi il mio sogno sarebbe quello, sarebbe di, ripeto, arrivare a essere sopra l'Inter domenica prossima dopo la Roma in modo da poterci gestire in modo, direi, migliore la situazione. Detto questo, ovviamente non siamo capaci di giocarci una partita senza qualcuno che è infortunato. Io non capisco perché all'Inter non si rompa mai nessuno. Dicono Sensi, Sensi, ma Sensi, ma Sensi, ma Sensi. Ma con tutta la nota dell'Inter, Sensi, come per noi Daniel Maldini, cioè ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che a centrocampo hanno Barella, Prozovic, Gagliardini ed Eriksen e Vidal? Cioè c'hanno questi cinque a centrocampo e si lamentano perché, eh ma, c'è il rutto Sensi. Ho capito, ma, cioè, ma Conte quando fa la formazione di centrocampo c'è l'imbalzo della scelta. C'è la mia manchina in golana e l'hai dato via perché era un esubero. Cioè, ma ci rendiamo conto? Invece no, noi facciamo meno di Benasser, che non è il giocatore più forte a centrocampo che abbiamo, secondo me. Perché per me il giocatore più forte a centrocampo che abbiamo è senza discussione, che sì. Ed è il giocatore che per noi è come per loro Barella. Perché io ci trovo molta somiglianza nei due. Trovo tanto fisico, tanta corsa, tanto sacrificio. La differenza tra Barella e Chessy, secondo me fondamentalmente, è che Barella fa più gol in azione e Chessy fa più gol su rigore. Questa è la fondamentale differenza che trovo tra due. Non direi se io trovo giocatori molto simili. Ecco, forse Barella corre un po' di più e Chessy ha un po' più di fisico, però, comunque, siamo lì. Dite quello che vi pare, ma secondo me le cose stanno così. Benasser può essere come per noi, cioè, per me Benasser può essere come per ora un Brozovic. Un Brozovic che comunque, tanto altanenante, tanto criticato, ma alla fine quando l'intera in campo Brozovic, la situazione cambia. E' come quando noi abbiamo un campo Benasser o Tonali. Tonali, ora, come ora, non ha la visione di gioco e i piedi che ha Benasser. Benasser non è uno che fa gol. Benasser non è che ti pesca lanci lunghi, che ti fa gli assist, e che ti smista bene il gioco e che fa legna a centro campo. Cosa che noi ci serve. Tonali ha il suo stesso compito, problema che, qualitativamente, per ora, è molto, molto indietro rispetto a Benasser. E questo è stato rifatto. Poi, se il Tonali di ieri sera continua su questa strada, che piano piano sta crescendo, sicuramente, nel giro di qualche tempo, non si avvicinerà proprio a essere come Benasser, però, insomma, potrebbe essere una riserva di lusso, ecco. Abbiamo recuperato Rebic, che ha giocato una partita così e così contro la Stella Rossa. E abbiamo anche Brev Diaz, questa questione, che è ancora fuori. Poi, ragazzi, se giochi con Leao, Rebic e Cialanoglu, Brev Diaz, diciamo che è un'assenza a cui, secondo me, puoi fare a meno, ed è un'assenza sicuramente meno grave di quella di Benasser. Kier aveva riscontrato un colpo contro lo Spezia. Ora, non so se rientra, dovrebbe rientrare Kier, ma comunque abbiamo capito che Tomori sta veramente dimostrando di potersi, momentaneamente, in questa situazione, accollare la difesa del Milan. Io sono convinto che Tomori, ora come ora, possa essere considerato un semi-titolare. Perché comunque le prestazioni che ha fatto non noto grandi errori in lui. Noto più che altro che fisicamente è una bestia, praticamente va un po' inserito. Cioè, lui è uno che vede la palla, e magari non pensa che, se magari c'è l'attaccante bravo, che la palla non gliela fa vedere, e poi perde un uomo in difesa perché esce col centrale. Però, finora, bisogna anche far notare la qualità degli avversari che abbiamo affrontato, gli è andata sempre bene, quindi, bene così. Quello che mi preoccupa del derby è più che altro che se vincono vanno a più quattro. Eravano a più quattro anche noi, quindi il campionato finisce a maggio, e poi anche i casini societari dell'Inter, sicuramente, secondo me, avranno ripercussioni sulla rosa. E qua non è un gufaggio, ma secondo me, quando c'è un puttanaio in società nello spogliatoio, succede. E vediamo, però, insomma, dagli più quattro. Puoi andare a giocare con la Roma. Metti perdere con la Roma perché la Roma, dopo la debacle che ha avuto con lo Spezia, si è ripresa. Ha perso con la Juventus, ma ha giocato, secondo me, una partita più che sufficiente, perché l'ha vista Roma-Juventus, anzi Juventus-Roma. Per me la Roma ha giocato benissimo, però è stata brava la Juventus. a non fargli vedere la porta, la Roma si è ripresa, ha vinto 2-0 a Braga, ha fatto la partita ieri che dovevamo fare noi. Dovevamo andare noi a Belgrado e vince 2-0. Loro avevano un avversario molto più difficile del nostro e hanno fatto la partita che dovevamo fare noi. Hanno fatto 2-0, hanno il ritorno a Roma giovedì, mettono le riserve, giocano dietro, fine. Ecco cosa ha fatto la Roma che dovevamo fare noi, cosa che non abbiamo fatto ieri sera. Se vanno a complicarci la vita, beh, è vero anche che loro comunque non hanno il derby con la Lazio domenica, perché probabilmente se fosse stata Roma-Lazio domenica non avrebbero vinto 2-0 a Braga, è vero anche quello. E io mi auguro ragazzi di uscire da queste due settimane di ferro e fuoco e essere, primo sarebbe un sogno, ancora lì sarebbe un desiderio. Mettiamola su questo piano. Perché poi comunque ci aspetta una serie di partite piuttosto abbordabili, perché dopo abbiamo Verona, Udinese e poi un altro paio di partite prima di andare con Napoli. Napoli e Fiorentina. Napoli sta succedendo un puttanaio assurdo, lo sapete. A Napoli c'è tensione tra De Laurenti e Gattuso. E non è colpa di Gattuso, perché so com'è Gattuso. Perché Gattuso ha detto che non dà le dimissioni. E che... No, perché poi no, c'è gente che si chiede... In realtà a Napoli gli allenatori danno le dimissioni, non vengono esonerati a Napoli gli allenatori. Perché Gattuso non vuole pagare due. E... Gattuso ha detto, io finché non mi esoneri le dimissioni non le do. Quindi è un po' una battaglia tra loro due. E speriamo che questa battaglia per bene nostro duri fino a quando dobbiamo affrontarle, almeno le affrontiamo in questa situazione. Speriamo di vincere e di andare avanti. Quindi sono preoccupato dal punto di vista tattico alla fine. Perché riguardando il Milan di ieri sera, guardando il Milan con lo Spezia, ti avvicini molte volte davanti alla porta, però non concretizzi. E ci ho speso 11 minuti e 39 ieri sera a fare questo discorso. Che noi continuamente andiamo a cercare di fare gol, arriviamo al limite dell'area, tira tu, no tira tu, tira tu, tira tu, tira tu, non tira nessuno. Magari tirano, la mandano in curva. E questo è il problema. E... niente. E poi dietro ultimamente abbiamo troppe disattenzioni. Torna Calabria, dopo la squalifica con lo Spezia, e non dico che Calabria... Non dico che l'assenza di Calabria sia stata la chiave di volta per far vincere lo Spezia. No, no. Penso che con tutti i titolari, diciamo quasi tutti i titolari, si sarebbe perso uguale quella partita. Ma giocandola così altre dieci volte la perdi. Quindi tranquilli. Mi preoccupa, e ripeto ragazzi, la mia ultima preoccupazione è vedere gli interisti che abbiamo vinto dei derby su uno. Questa stagione, avevamo detto che non è tempo di festeggiare, ma a me importa la classifica, a me importano i fatti. Cioè per me si possono anche perdere i prossimi 100 derby, si possono perdere tutti, ma se non vincono un cazzo, che li vincono a fare i derby? Quindi, volete vincere i derby, vincite anche i titoli. Ed è questo un oggetto di discussione. Cioè, nel senso, ripeto, preferisco perdere i derby e vincere i titoli. Perché tanto, quanti derby vinci, non determina la tua storia. Quanti titoli vinci, invece sì. Questo è un dato di fatto. Perché i derby vinti sono una variabile, invece i titoli sono una costante. Per chi studia matematica, ha capito il mio discorso. Quindi ragazzi, detto questo, noi ci vediamo domani, perché ovviamente si fa la post partita di action, e probabilmente non sarò neanche da solo. Sarò in compagnia diventa Risa, tra l'altro. Quindi, insomma, mi trocca a fare la post di action. Vi dico già, si sono preoccupato, sono pessimista, secondo me perderemo. Vabbè, tra parentesi, l'ultimo derby hanno vinto con 10 minuti di recupero e un rigore dubbio. Questo ci tengo a precisarlo, però siamo stati polli noi per maggior parte del tempo, quindi l'avrebbero vinto comunque. Domani si fa la post partita di action, e non so se farà anche la live reaction, magari ve la porto lunedì, perché devo montarla. Fatto sta che entro due giorni uscirà il secondo episodio della carriera col Milan su FIFA 21 e oggi è uscito un video su Ultimate Team. Quindi, chi vuole non ne andrà a fare, basta cliccare qua nel canale e andare a vedere. Vi ringrazio per aver bisogno di questo video, lasciate like, iscrivetevi al canale se vi fa è un invito, non è un obbligo, fate quello che volete, ci vediamo come ben detto domani. Ciao a tutti ragazzi e buon sabato. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.